Che cosa succede? Che cosa succede? Che cosa succede? Stai lontano da me! Stavolta ci sei andato vicino! Gratulagroso... ... filosofia. Gratulagroso... Grazie a tutti. Accidenti! 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 Mi ha mancato! Che cosa? Anche la TV! Alla prossima! Ah! Un attacco vegetale! Accidenti! Ai ai ai! Niente da fare! Accidenti! 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 Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! Grazie per la visione! 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 Attenzione! Niente da fare! Accidenti! 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 Spero che non ti dispiace farti un bagno! Accidenti! 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 Grazie a tutti. 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 No! 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 La d'acqua è in arrivo! Attenzione! La d'acqua è in arrivo! Attenzione! Sì. 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 Mai sottovalutare un ragazzino paffuto!